Sì, sicuramente si tratta di un prodotto innovativo, utilissimo per un prodotto di per le persone che hanno poco tempo per mantenersi in forma e cercare di mantenersi in attività fisica, magari avendo poco tempo a disposizione e quindi non potendo frequentare delle palestre. Infatti l'esigenza di mettere un negozio per quale motivo? Per informare le persone su questo attrezzo, si sentono tante cose, si vedono tante pubblicità, però poi alla fin fine nessuno sa esattamente quali sono i vantaggi e i benefici portati dalla pedana vibrante. Ecco qua, infatti, quali sono i benefici? Allora, innanzitutto esistono tre tipi di pedane, esistono delle pedane che sono dei massaggiatori, sono le pedanine piccole, quelle che si trovano a poco prezzo, molto utili magari per gli anziani per riattivare la circolazione, però riattivano solo la circolazione. Poi esistono le pedane vibranti basculanti, sono pedane molto interessanti, secondo me molto adatte per l'uso da parte delle donne perché fanno molto bene il massaggio e il drenaggio, diciamo dall'addome in giù, esatto, e quindi sicuramente molto adatte per le donne. E poi esistono le pedane vibranti invece con vibrazione sussultoria che sono delle pedane che con la vibrazione consentono, oltre al drenaggio e massaggio che è un'azione comunque meccanica, consentono di fare proprio un allenamento fisico a livello muscolare. Ah, tutto, cioè sia tutti e tre. Grazie mille.